Mi chiamo Elena e sono stata studentessa di Biomedical Sciences fino ad ottobre 2017 quando mi sono laureata. Dopo la laurea ho deciso di lasciare la ricerca per approcciarmi a nuovi ambiti, perciò ho iniziato a cercare lavoro nel settore farmaceutico. Infatti a febbraio 2018 ho cominciato uno stage nel marketing in Sandots, che è una multinazionale farmaceutica divisione del gruppo Novartis. Dopo sei mesi mi è stato offerto un posto nella direzione medica della stessa azienda come medical advisor, perciò eccomi qui. Il mio lavoro consiste soprattutto nell'occuparmi degli studi clinici, che l'azienda decide di attuare in collaborazione con medici o centri di ricerca, però non faccio solo questo. Infatti mi occupo anche di formazione, di revisione di materiali promozionali e ho la possibilità di viaggiare molto sia in Italia che all'estero per assistere a congressi nazionali e internazionali. Il mio lavoro quindi è molto vario, dinamico e mi piace molto, perciò ringrazio Biomedical Sciences di avermi dato l'opportunità di accedere a questo mondo.